La FIFA annuncia la sospensione del segretario generale Jerome Valche. Il numero due del governo del calcio mondiale sarebbe implicato, secondo quanto riportato dalla stampa inglese, in un commercio illegale di biglietti omaggio durante i mondiali brasiliani del 2014. I suoi legali smentiscono, ma il francese è stato sollevato dalle proprie funzioni con effetto immediato. Appena tre giorni fa il ministro della giustizia degli Stati Uniti, Loretta Lynch, aveva detto che lo scandalo che ha investito la FIFA e il suo presidente Sepp Blatter si sarebbe allargato e questo martedì c'è stato anche il via libera all'estradizione negli Stati Uniti da parte della Svizzera di Eugenio Figueiredo, ex vicepresidente della FIFA e della Confederazione Sudamericana, detenuto a Zurigo. Nel frattempo, quel che resta della FIFA si prepara a eleggere il nuovo presidente il prossimo 26 febbraio.